un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su beat heroes in questo video spiegherò brevemente poche ma fondamentali nozioni che saranno molto utili per chi ha appena iniziato la propria avventura in beat heroes infatti io stesso appena iniziato mi sono fatto molte domande su quale fosse la cosa migliore da fare all'inizio soprattutto per non sprecare risorse che magari potrebbero esserci utili successivamente iniziamo con il parlare dei famigli quale famiglio conviene prendere è facile il famiglio a cui dovete subito puntare è bubbo è una fusione quindi si ottiene da due famigli più alcune risorse i due famigli per bubbo si possono catturare entrambi nel primo dungeon quindi non sarà un'operazione particolarmente complessa ovviamente dovrete aver prima trovato il progetto una volta trovato lui avete le spalle coperte per diversi dungeon prima di iniziare a sentire il bisogno di qualcosa di più potente un altro super tank che consiglio di prendere non appena si ha un discreto danno è schramps che si ottiene della fusione di grams nel nella zona 2 dungeon 2 e di schramps che si trova invece nella zona 1 dungeon 2 quest'ultimo è un tank di tutto rispetto consigliabile anche e crearne almeno due o tre copie sin dall'inizio in modo tale che aggiungendoli nella stalla se ne può aumentare la potenza il mio consiglio comunque è di portarlo al massimo detto questo un altro aspetto davvero fondamentale e da non sottovalutare sono gli amici usare un po di tempo nel cercare amici il quanto più forti possibili è tutt'altro che tempo sprecato avere amici forti vi assicura di poter farmare in modalità automatica dungeon e raid sempre più difficili oltre a potervi dare anche qualche consiglio prezioso parliamo ora di item per proseguire nel percorso e passare da un dungeon farmabile a un altro nei quali è possibile usare degli amici dovremo passare per le bandierine livelli superabili solo con le nostre forze e quelle dei nostri famigli quindi è assolutamente fondamentale potenziare gli item che possediamo soprattutto quelli rossi il prima possibile in modo da poter proseguire molto rapidamente nel percorso gli item da usare come punto di riferimento a mio parere prima di arrivare a raid 3 quindi alla zona 6 sono quelli epici cioè rossi in quanto ho notato che upando quelli trovati nella zona in cui si è si arriva serenamente e senza troppi problemi ad affrontare l'ultima zona dove la difficoltà aumenta e andranno usati anche alcuni item leggendari e i famigli indubbiamente dovranno essere potenziati quindi non abbiate timore nell'usare risorse per potenziare item anche perché una volta arrivati a livello successivo si potranno distruggere e recuperare parte dei materiali utilizzati nella costruzione e nell'app di quello strumento un'altra cosa che ho notato è che fino all'ultima zona con la staffa che quindi da abilità curative ci si trova leggermente meglio rispetto ad armi come per esempio la spada e la lancia sopra gli equipaggiamenti epici cioè quelli rossi di cui abbiamo parlato finora abbiamo i leggendari e ancora più su i set questo tipo di arma ha la particolarità di avere effetti aggiuntivi nel caso appunto si possieda tutto il set e non solo un pezzo per questi tipi di equipaggiamenti occorrono particolari e rare risorse per lo sviluppo in quanto possiedono molto potere per quanto riguarda invece il bilanciamento dei parametri consiglio di puntare molto all'attacco e alla velocità ignorando inizialmente la salute sono arrivato alla sesta zona portando su per lo più solamente attacco e tenendo una velocità proporzionata ho notato anche che attacco e velocità uguali oppure velocità troppo bassa non sono in nessuno dei due casi scelte vantaggiose almeno questo è quello che ho notato nei numerosi esperimenti fatti spostando a caro prezzo i parametri degli oggetti dall'uno all'altro per testarne gli effetti un altro consiglio che posso dare è di evitare i boss quando si è a livello basso con 20 energia si attiene più oro più esperienza oltre che la possibilità di prendere famigli facendo dungeon rispetto a fare un boss i boss consiglierei di farli quando ad esempio si cerca equipaggiamento raro e può essere droppato più facilmente dei boss ma un costo notevole quindi soprattutto nella fase iniziale intermedia li sconsiglio vivamente almeno questa è la mia opinione un altro consiglio importante è il seguente se sei un giocatore attivo che entra di frequente a scaricare le varie energie di tutte le modalità sarà molto proficuo attivare due o tre bonus al giorno il mio consiglio è appena svegliati attivare il bonus oggetti oro ed esperienza magari non proprio dall'inizio ma già arrivati a raid 1 è davvero molto conveniente equipaggiare questi bonus in quanto si auto ripagano e danno un vantaggio nel tempo davvero notevole parliamo un secondo anche di accessorie pet rune e cavalcature appena iniziato il gioco viene offerto a 6 euro un pack iniziale che è molto vantaggioso da prendere nel caso in cui vi piaccia il gioco e pensiate di essere attivi se vi state chiedendo qual è il modo migliore di usare le gemme che avete accumulato soprattutto all'inizio della vostra avventura io credo che il modo migliore mi è stato anche consigliato da diverse persone è quello di scegliere lo scrigno grande quello da mille che in alcuni giorni è in offerta 850 che da 5 mascot difesa schermatura io consiglio di prendere difesa schermatura di cui almeno uno raro o migliore quindi c'è più probabilità di prendere qualcosa di decente e al posto di prendere gli scrigni più piccoli da 200 dove non è garantito che ci sia un pet almeno raro come rune se non intendete prendere il pack di benvenuto consiglio di riempire di verdi e di blu aspettando i premi settimanali degli eventi e poi passare direttamente a quelle rosse che a mio rere hanno un perfetto rapporto di qualità e prezzo infatti le verdi e le blu vengono facilmente vinte in eventi le gialle sono davvero super costose rispetto alle rosse ma alzano di poco in più parametri quindi io consiglio di puntare a un set epico di rune vediamo le cavalcature come cavalcature consiglio di prendere inizialmente quella blu e potenziarla al massimo e poi passare direttamente a quella leggendaria almeno questo è quello che mi è stato consigliato da molti ed effettivamente è il modo migliore per risparmiare risorse fondamentali e rare che sono appunto quelle delle cavalcature io non ho saputo resistere alla cavalcatura epica in quanto costa davvero molto ma molto meno di quella leggendaria e comunque mi ha dato dei parametri che mi sono stati molto ma molto utili per arrivare al raid 4 quindi nonostante mi hanno consigliato di fare una cosa io ho deciso di farne un'altra e non mi sono trovato male lascio a voi diciamo la scelta di questa opzione con le monete che si vincono nel pvp bronzo argento e oro il mio consiglio è quello di aspettare accumularle e acquistare infine un punto in più che possiamo assegnare a uno dei nostri parametri come se fossimo saliti di livello un'altra cosa che vi consiglio è di tenere sempre attive le pubblicità e di guardarle ogni volta che se ne ha l'occasione in quanto le ricompense che vengono offerte sono davvero succulente lasciando il gioco aperto un'ora si ottengono energie quasi come se ne fossero passate due anche la pubblicità che trovate nei dungeon sono molto importanti in quanto potrebbero dropparvi armi epiche oltre che presentare sempre al suo interno gemme e frammenti di rune materiali rari quindi fate in modo di sfruttare queste risorse gratuite che ci vengono offerte in cambio solo di pochi secondi che però finanziano anche il gioco quindi è un bene per tutti si può giocare a bitiros scaricandolo da steam oppure su pagina browser o su mobile in tutti i casi i server sono collegati quindi basterà loggare il vostro account con gregate ma una differenza c'è tra tutte queste piattaforme queste differenze riguardano lo shop e la pubblicità shoppare 10 euro su mobile vi costa 12 euro sul sito 10 mentre su steam meno di 8 questo per via di cambi euro dollaro e tariffe variabili dalle varie piattaforme quindi se volete un consiglio per shoppare andate su steam storia totalmente inversa per la pubblicità su steam non appare la pubblicità quindi giocando solo su steam si andranno perdendo importantissime risorse su browser invece appaiono le pubblicità ma capita abbastanza di frequente che si abbiano problemi nell'avvio o nel ritiro della ricompensa di queste quindi il mio consiglio finale se dovete shoppare aprite il gioco da steam mentre per tenere il gioco aperto e accumulare le varie ricompense che ci vengono offerte della pubblicità tenete il più possibile il gioco aperto su mobile oppure su emulatore in ultimo consiglio di trovarsi una gilda seria in cui crescere e prendere così vantaggi che si hanno nello stare appunto in una gilda volevo chiudere questo video con il ringraziare e salutare tutti quei player che mi hanno aiutato e consigliato da quando iniziato a giocare gazz734 il quale anche un canale youtube che tratta anche di beat heroes e vi invito sicuramente a visitarlo il link in descrizione onnige che mi aiuta anche a gestire la gilda e consiglia e aiuta i player che hanno problemi nel proseguire e poi un saluto speciale va anche a soriche minotaur e avalon oltre che a tutta la gilda camaleoni e con questo video è davvero tutto non penso di aver tralasciato nulla nel caso lo abbia fatto e me ne rendo conto vi lascerò sicuramente nei commenti quello che ho messo nel video vi invito anche a lasciare un bel like e un commento fatemi sapere che cosa ne pensate per ogni domanda mi trovate nei commenti io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video iscriviti al canale